buonasera a tutti benvenuti benvenuti come va eccoci già in diretta subito si leva il leva l'audio buonasera ciao gerry ciao gerry quindi se proprio così non si vede più con voi giusto no dovresti vederli buonasera stefan buonasera eccolo ti ha fatto un gran truccinio ma noi rifaremo ma scusa ma mettilo sul tavolo invece che in bilico c'è anche bar napoli ci sta guardando non so chi sia però brava grande forza va fa sempre meglio anche se siamo alla florentina ma forza va giusto 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 qui c'è ci sono i tuoi capelli non so perché sul mio sul mio coso perché perché io lavoro qui non ho capito ci fosse a meglio alcun altro qua non ti ci vedo mai perché non ci vedi mai ma io vengo sti a lavorare buonasera a tutti buonasera c'è stefan che dice che cosa c'è la sorpresa la sorpresa ma la sorpresa ma la sorpresa ma la sorpresa ma tutti i giorni c'è la sorpresa ma non è 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 che non è nascere il giorni c'è la sorpresa ma non è 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 non èなので non è un giorno andrante Buonasera Guarda quanta gente c'è stasera Ma lo sanno Che ti sto guardando? Il tuo telefono C'è il calendario nel mese di febbraio Nel 2003 Nel mese di febbraio l'ha vinto Alexander Nel 2023 Sono un po' indietro Che ho fatto un po' un viaggio in interno Il capo lavora ma non si fa vedere Dice Gerry Bravo Gerry bravissimo Gerry si puderà Gerry indefendibile Bruno Leggein Buonasera Ciao Bruno Ciao Massimiliano Nel febbraio del 2023 Alexander Adam ha vinto il contest Il mese di febbraio E quindi C'è il nuovo calendario di cette année E nel mese di febbraio L'anno dernier Le concours Ha été vincu par Alexander Padam Che non lo puoi levare Perché c'è Vai Così si vede Vai Vedete Quindi partecipate al contest Perché poi potete vincere anche voi Ciao Massimiliano Feltrin Benvenuto Buonasera Ciao Massimiliano Buonasera Poi Ciao a Diorama La Carrumba Ciao Suppongo sia spagnolo Non lo so Non l'ho noto Dicci dove sei Diteci dove sei Ricordatevi l'avevo detto Fateci sapere da dove ci scrivete Da dove ci seguite Giusto? Giusto Come sempre Mi tocca fare tutto a me Bravo Perché quella con più lingue Bravo Perché arrivano prima i commenti sul tuo telefono e sul mio Quindi è ovviamente Io posso tagliare e spangere Bravo Vedi? Perché? Perché ha paura di perdere il lavoro Eccoci Perché qui impari No ma se poi impari Eh perfetto Io ti compro un treppiedino Siamo a posto E fa tutto da te Massimiliano Feltrin ci scrive dalla Spezia Ciao ma è bello la Spezia E chissà 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 gli altri Da dove ci scrivono No Dove Gerry non mi interessa Ha detto Per la nora Sono in caserma Ecco non ci interessa Sei l'unico E non ci interessa No povero Gerry Se non mi sentite più Perché sono uscito Sì sì Vabbè Tutte scuse Tutte scuse Allora facciamo però vedere Cosa c'è sul tavolo Sulla zona verde Facciamo un primo piano Sul tavolo verde Ma ci si può giocare a poker Eh appunto C'è uno Scania C'è parecchia arte Carte dice le pote C'è uno Scania Che è in via di Finiture Due man Pinzetta? Due man Uno e due Uno già decorato Ma non si vede perché è preso Piano piano Ci prendiamo tutto insieme Ciao Andrea Lanaia Benvenuto Buonasera Ciao Andrea Poi abbiamo Uno Stralis Seconda serie Adesso vi dirò un po' Che cosa diventeranno Tutti questi Tutti questi qui Stasera finiremo Il Loscania Per la felicità di Stefan Sì Giusto? Che succede? Sto devo guardare Perché è successo qualcosa Ti vedo guardare lo schermo Guarda anch'io Sto cercando di leggere Ti papi Oh che non sei altro Ciao Carlo Ciao Giuseppe Faccio io Ecco bravo Ciao Giuseppe Ciao Biagio Stasera fa tutto lui Buonasera Buonasera Andrea Io non c'è un biancaffè Poi c'è Antonio Ecco Antonio Buonasera a tutti Buonasera Ciao Antonio Ciao Nara Poi ci dovrebbe essere anche Biagio l'ho detto Nausica 8 Anche Ciao Nausica 8 Poi c'è Gabriele Laurette Tutti Ci sono tutti Ci sono tutti Si può andare avanti Guarda va Continua ad arrivare Anche i tuppini Scorta Scorta Se te tu leggi Non si fa nulla Penso Ecco Ma però qualcuno Le deve leggere Eh non ce la levi Eh guarda C'è anche Massimiliano Ha fatto un commento Devo leggertelo io Se mi dai tempo Questo lo posso leggere È in italiano Scherlo capisco bene Ma è quello Ma non riesce A cambiare Faccio un genere diverso Ma seguo uguale Si impara sempre Grazie Massimiliano E poi I consigli Sono sempre ben accetti Quando uno fa modellismo Sono sempre Magari ci può dire Il genere Fa Eh sì Dai Massimiliano Scrivi Scrivici Io imparavo tante cose Vedi Quando Massimo Imparava tante cose Bene bene Diteci cosa avete imparato voi O forse nulla Chi lo sa Però a parte Per l'istona Ci stiamo perdendo Te cosa hai imparato Hai imparato a fare anche te Delle cose Esatto Ma te però Io ribadisco Tu dovresti essere assunta Per un'altra lingua Allora due L'italiano lo faccio io Lo fai tutto te Che succede Massimiliano Guarda 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 Ecco mi dicevo Ho la valletta oggi Ho la valletta Perché se no Il capo non parla Non parla Non parla D'altra Massimiliano ha detto Lui fa figurini e diorami È interessante I diorami C'è sempre qualcosa da imparare Massimo Mi piacciono molto i diorami Ma Non ha molta esperienza No Non mi ci butto mai Ma è una cosa Mi piace tantissimo Allora Quindi Oggi ho la valletta E quindi Ma pronti Ma parla In inglese Nonostante la valletta Che dica parla Si riempi tutto il tempo Io difficilmente Trovo spazio Ce soir On va observer Très voisin Ce qu'il y a Sur la table Ce qu'il y a Sur la table Il y a Un scania Et aussi De Man E puis On va Voir Ce qu'il y a Déjà Decoré E Ceci Qui va Massimo Va Montrer L'interrière Buonasera Ignazio Ignazio Vigo Buonasera Buonasera Ti fai una foto All'interno Non so Come si fa Ma come Se tu le facevi Prima le foto Ah si Eh ma Poi rischio Che si spengono Allora Mi tocca Farla anche a me Neanche Ma bene Mamma mia Ragazzi On the table You can see In the models That we'll see This evening Eh Si Ah ok Si si no Eh so There is a Scania And Man One is Decorated The other ones Are Not enough Decorated And this is The interior Of the Scania With the Danish Splush Gray Decoration No No Sorry No Without No So Che ne so Io Non è Un interno Che ho fatto Esclusivamente Per lo Streamliner E' proprio L'interno Dello Streamliner Infatti Se ci fai Caso This is not A generic Interior But Specific For Scania Streamline Se fai un Primo piano Si Zoom Ah V8 Ok Si 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 Buonasera Tutti i tasti Il navigatore La Come si 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 Su Si Si Quindi Su Si 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 Esatto, praticamente l'ultimo R prima dell'S, quello con, come si chiamano queste parti qui, senza i bocchettoni nell'aria. Gli angoli senza bocchettoni. Bene, io non seguo più i comandi, i comandi. Ciao a tutti, guarda là quanta gente c'è ancora, arrivava un sacco di gente ancora di più, mamma mia ragazzi. Oggi si, altro è Sanremo, oggi si fa gli ascolti noi. Ora comincio a cantare, a parte quello. Dunque, andiamo a ricomporlo, ok? Perché poi dopo la parte finale faremo, metteremo i fari. Quindi vado a levare le ditate sui vetri. Buonasera Luca Elementi, benvenuto. Buonasera. Ciao Luca. Guten Abend a Josef Eger. Quindi vado a levare le ditate sopra il vetro. Ho messo prima le tendine. So Massimo has cleaned the glass and then before he added the curtains. Ciao Simone Pallini. Buonasera. Poi visto ci sono pulisca anche la cabina, un po' la meglio perché intanto la devo anche ritoccare con le dita. Poi io ho delle dita particolarmente punte. Massimo ha posato il ridotto avanti di rimettere i vetri nella cabina. Vado a posizionare il parasole. O forse non lo so come si chiama questo filo. Così mi tiene fermo il vetro. Là. Guardate la tendine messa perfetta mamma mia. Guardate la perfezione questo modello. Questo modello leva le ditate sui vetri con un panno tenendo il vetro con le dita. Chi l'ha detto? Gerry. Ma però perché lui ha bisogno solo di criticare. Ma se avesse visto bene lo tenevo internamente. Ciao Daniele Mannucci. Ciao Daniele. E il vetro dietro apposta per non farci le ditate. Gerry qui non si può criticare perché tu sei lontano perché tu fossi qui. Diciamo una cosa. Quindi questo Scania V l'avevo comprato originale senza decal. Ovviamente ne abbiamo messe noi. Però il blu non l'ho ripetitato e l'ho smontato tutto perché lo volevo rifare. E poi l'ho lasciato lì quasi due anni smontato. L'altro giorno ho detto riprendiamolo e mettiamolo nel nostro museo. Quindi viene da lontano questo progetto. Sì. Questo progetto viene da lontano. Il ha due anni Massimo ha dimontato questa maquette. E poi qualche giorno, il ha deciso di riprendere e finire. Esatto. Quindi è un modello molto semplice se uno vuole perché alla fine la livraia è molto semplice. This is not a difficult delivery. So the design is very simple and Massimo dismantled this assembly this model two years ago and then a few days ago decided to finish the work. Quindi sostanzialmente cosa ho rifatto? Semplicemente ho messo tanti dettagli. Cioè quindi la parte nera nella parte finale della cabina. Le detalle? Sì. Le detalle che Massimo ha definito su questa maquette sono le rideaux e la linea noire alla fine della cabina. La parte nera dopo le finestrini nella parte finale. Olivier Floch, benvenuto. Buonsoir della Bretagna. Buonasera. Buonasera. Ora ti ho tempo, però lei non mi traduce uguale. Dimmi. Buonasera amigos, dice Ignazio Pio. Buonasera a te. Sì, ma le 10 minuti fa l'ha detto. Ma io lo ridico ora. Ah va bene, ok, sei rimasto un po' indietro. No, sono rimasto un po'. Mi hai domicilato, mi hai anche. Eh, guardi, infatti. Pier Valentino, Pier va anche, l'avevi salutato, l'avevi detto c'era. Ciao Pier Valentino. Ah, hai detto, non ti ero ricorda. Ma non è che... Io non li vedo tutti. Non c'è nessuno, ora non stanno commentando e questo non c'è. Bruno Leggiant dice che cosa hai a fare nel successo dello ScanR1000? È lì. Bruno, è là, è là-bas. Massimo, si è là. Non posso farli così, cioè deve avere l'ispirazione. Ah, Massimo deve avere l'ispirazione per il progetto e non ha ancora trovato l'ispirazione per l'R1000. Ancora non è mai arrivata, no, infatti. Ok, on doit attendre. Quindi, torniamo a noi. Quindi, poi la parte nera, ok? La decorazione noire. Tutti gli scalini in argento, anche questo qui. Le marche in argento. E poi ho messo le ruote, ovviamente, stersanti. Ci sono le pneu che girano, con le kit di Erpan. Sì. Tutto l'argento, la modonatura in argento. E tutte le linee argentine, tutto autour del grenaggio. Il tubo di scarico bucato. E il tubo di escapamento con le trou. Infine, dentro, i tappi colorati in modo diverso, gli adesivi su serbatoi e le linee, le scendie. Non so se vuoi vedere le decà che rappresentano gli adesivi di sicurezza. Sì. Quindi manca, poi ho fatto un po' di tecnica di pennello asciutto per far venire in rilievo le parti. Con la tecnica di pennello asciutto per pensare, non mi confondi. Quindi questi sono tutti i dettagli che Massimo ha aggiunto a questo modello. Quindi le linee nero all'interno del cab. E anche, guarda, rispondi a Massimiliano Feltrin. Intanto. All'interno del cab. Scordi in su. E tutte le dettagli... No, lo stavo dicendo in inglese. So, the details of the silver lines on the side skirt, like this. and also the steering wheels and the... with the technique of dry brush. He added some deepness to the back of the cabin. Ciao a Nicola Fazzolari. Ciao a Nicola. Buonasera, ciao. Olivier Floch dice superbo, un lavoro superbo, bravo. Bravo, bravo. Cioè tutti mi fanno complimenti. Massimiliano mi dice se le tendine sono in decals. Sì. In questo caso sì, le tendine sono fatte in decals. Sì. Le rideau sono in decals, applicate dall'interiore o all'esterno? No, all'esterno. Queste sono all'esterno. All'esteriore. Quindi applicate all'esterno della parte vetrata? Esatto. Sì, 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 sì. Poi, quindi, che cosa rimane per finire questo modello? I fari in 3D, che useremo i nostri fari in 3D, e poi il telaio per l'aria, il portatubi, che l'originale non ce l'ho, perché non l'ho finito, lo devo ristampare. Però metteremo quello. Metteremo anche le mapflap. Come non ce l'hai? C'hai 8600 pezzi e quello non ce l'hai? Sai, io lavoro. Ah, e li applici tutti. Ah, li applicati tutti 8600. Manca sempre tutto. Manca sempre qualcosa. Secondo me è in terra. E anche se fosse... Gerry, digli qualcosa. Perde tutte le cose, non finisci i pezzi. Come si fa poi a fare le dirette? Ti manca la materia prima. Eh. Cosa c'è qui? Non ti rispondo perché... Non c'è perché il canale su è stato interrotto. È vero. Metteremo il mapflap. Vecchia scuola. Cioè? Con la scritta vecchia scuola. Quadratica. Old school? Sì, scritto un po' più scuro. Un po' più squadrato. Ah, ok. Ti intanto intratieni un'altra lingua? Sì, io stavo guardando, osservando questi pizzettini. Sono interessanti. A me piace molto l'interno degli sportelli. Che però a te non metti male lo sportello aperto e quindi... Ma come no? Cioè, l'ho fatto lo sportello aperto. Non li posso mai fare tutti lo sportello aperto. Ma però sono bellini. Anche perché poi mentre nella scatola la posso montare agli specchi. Questi sono dei dettagli che Massimo va a aggiungere alla maquette. Questo lo rimetto a mano, eh? Sì, perché è una bella scala. Dopo si perde. Massimiliano Feltrin dice Ci sono tessuti finissimi che aumentano il realismo per le tende. Sì, Massimiliano, è vero. Per l'1,87 sono un po' difficili da... Secondo me, ecco, non so ora in che scala fai... I figurini? I figurini? O i diorami? I figurini, però l'1,87... Cioè, se no mi occupano... Ho paura e mi occupano di troppo spazio dentro la cabina. Perché è veramente piccola piccola, eh. Non so, però magari... Io conosco il mondo dei figurini. Quindi magari esistono delle cose molto... Però può valere la pena provare tutte le cose. Sì, sì, quello senza dubbio. Perché no? Cioè, a tutti intanto qui è un porto di mare. Entra, esce gente come se non ci fosse un domani, eh. Non so se tu stai a vedere. Allora, Nicola Fazzolari ha una domanda. Eh? Dice, realizzate anche le tendine? Dove si è realizzato? Sì, di solito le mettiamo in omaggio negli ordini del sito. È vero. Non abbiamo un articolo dedicato, ma preferiamo dargli un omaggio. Sì, se ordinate da noi vi si regalano. Quanti là, guarda. Che generosità. Ciao a Patrick Domer. Buonasera. Dice, c'è un piccolo problema nel paese questa sera con la internet. Comunque ci augura buona serata. Buona serata anche a te, Patrice. E adesso mettiamo i fari 3D. Ma ho sbagliato. Oi, 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 oi. Ho sbagliato, ho sbagliato. Via, si lega. Voilà. No, voilà. Non lo dico dopo quando è finito. No, ora. Va voilà. Ora mi sei incollato ai dita. Mannaggia, oh. Quindi. Perché questi sono i fari studiati perfettamente per l'S e allo spazio è totalmente più grande. E quindi per l'R devo andare a rifilarlo un pizzichino. Oh, Massimo. Quando escono le decals nuove? Dice Antonio Falchetti. Mai. Non ho smesso. Come mai? No, oggi sono dispettoso. Sei un po' scherzone oggi, eh? Allora, le decals nuove usciranno domani. Partono la newsletter. Cioè, quindi chi è iscritta alla newsletter vedrà le novità. Per, diciamo, sul catalogo. Dal lunedì, giusto? Se non sbaglio. Sì. Però attenzione, attenzione, attenzione. Quest'anno ci saranno un po' di novità, giusto? Giusto. Per l'intento, diciamo. 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 E sette anni è un pelle novità, quindi vuoi dire le novità? Sì, allora, quest'anno faremo delle cose un po' diverse, nel senso che faremo le uscite un po' divise per scale e quindi adesso uscirà la maggioranza di novità per la scala 1 a 24. Perché fin mese, inizio mese prossimo, noi andiamo in Belgio, dove tutto il mondo è quasi totalmente dedicato all'1 a 24, quindi abbiamo deciso che adesso, poi per tutto il resto dell'anno, faremo novità per l'1 a 87. Allora, ora lo dico, però volevo dire, Stéphane Beden ha detto, saranno necessarie delle decal per lo Scania T Next Generation. Eh, però io ancora non l'ho visto, non l'ho nuovo, c'ha delle soffiate che uscirà? Dove uscirà dove? Scania T Next Generation. Come modello? Mmh. Ah, Stéphane, tu... Perché per adesso? Tu sai chi il... ora... chi il sortirà se Scania T? Massimo non lo sape. Olivier Floch dice, andate a Giabeche quest'anno? Oui, Olivier, on va a Giabeche, Giabeche, e c'è per questa ragione che il primo catalogo di nouveauté è tutto dedicato allo 24e. E poi, in l'anno, noi avremo altri catalogo di nouveauté dedicato allo 87e, e anche la la nuvoità dell'échelle 1.32. So, we will be in Giabeche, in Belgium, at the first days of March. March, ehm... Aspetta, perché volevo vedere... Ok. So, the first catalogo of this year, with the news, is entirely devoted to 1.24 scale. And in the next months, we will also create a catalogue of the news for 1.87, and also we have a new, a brand new section for 1.32 scale. Buongiorno, Leo Trouvé, che dice, è arrivato in ritardo. Buonasera. Jerry dice, per adesso è stato presentato il nuovo Volvo da 7.80 cavalli. Ma... ma è vero, non... 87, per quanto ne so io. Che, tra l'altro, se vogliamo discutere su una linea, a me non è che piaccia tanto. Del nuovo Volvo. È una fatta fosolistica. Ma, senti, non so, non mi piace, poi saranno tutte le cose, uno si dovrà abituare, senza ombra il dubbio, non ne metto un dubbio, però... non mi fa impazzire il nuovo. Vero, dice Jerry. Vero, fatta sì. Oggi è una delle classiche giornate in cui non dovevo fare la live. Perché non me ne va una bene? Vabbè, ma è il bello della diretta, eh? Beh, insomma, diciamo, per voi sì, per me è un po' meno. Ho fatto le dimostrazioni, sono uguali, se su Arma Simon non ha la mano ferma, ma... va, 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 è come sa. Sono della stessa idea, dice Jerry. Poi sicuramente è una situazione in cui dovremmo farci l'abitudine, perché sicuramente... Però ecco, non ho visto niente di nuovo, cioè, nel senso, alla fine è sempre la solita musetto con le linee basse, già come l'avevano fatto l'FH5, un pochino più basso ancora, non lo so, mi sembra tutto molto pesante. Potrebbero, potrebbero fare qualcosa di meglio, volendo. Però ecco, il modello... Stefano non ci ha risposto... No. C'è un kit... Stefan Bedin, est-ce che tu sai che il ha un kit che va a sortire di Scaniate? C'è Leo oltre, non so se l'hai ricevuto. Sì. Il ho visto ha fatto, però il francese non so. È arrivato in ritardo, l'ho detto prima. Ah, era arrivato, ah, scusa. Dice, buonasera, sono arrivato in ritardo. Ah, sì, sì, sì. Stefan Bruno, adesso ci saluta. Ciao, Stefan. Quindi, messo il matzler... È completo? Passo ancora. Manca il telaio dell'aria che appunto... La prochaine fois. Sì, e poi volendo i telaietti che tengono... Che tengono i riflettori. Però li metto eventualmente sempre dopo il telaio dell'aria perché comunque mi crea... Cioè, nel senso, prima devo vedere come lo distribuisco. So, the last details next week with the air tube frame and the hooks for the back of the cabin. Intanto mettiamo qui un attimo lo scania, ci torniamo eventualmente dopo. E facciamo vedere sul nostro tavolo abbiamo due MAN F2000 che io adoro come modello. Dopo il Turbo Star. Non posso dire altro. Però, come seconda linea, a me il MAN F2000 non dispiace. Ovviamente uno ha già le nostre decal montate. È un modello realizzato da Kevin qualche tempo fa. Questo modello? Sì, con il nostro gold edition. Sì, con il nostro gold edition. MAM F2000 gold edition. Tutto nero e con il leone color oro e marrone sfumato. Questo è un modello realizzato da Kevin Fredericks. E cosa mi volevi dire? I fari. Ah. Sono nel kit anche questi faretti. Sì? Ma cosa c'entrava ora con la cabina? Ma tu parlavi e ti faccio vedere un'ideazione. Ah, ok, ok. Vedevo. Non capivo cosa dovevo dire. Ah, ok. Io guarda. E mi interrompi poi. Ma non ti ho interrotto. L'ho detto, lui l'ho solo indicato. Mi dici le pizzette. E io l'ultima volta ho messo le pizzette in silenzio. E tu hai interrotto. Non è vero. Non è vero falso. So, this is a MAN F2000. So, the decoration was applied by Kevin Fredericks. And this is the chassis with the lights and 3D. Tutto mi sa che l'ha incollato. Quindi ho paura di romperlo per mettercele. E poi mi tocca andare a cambiare cerchi. Perché non ce le posso mettere questi cerchi. Quindi. Io un tutto e tutto. Vabbè, l'opera è finita. E quindi. Sono andato a rismontare alcune cose. Tipo, per esempio, il serbatoio. Che Kevin non aveva praticamente limato. Quindi, come sapete, il serbatoio è il pavecchio. Era composto da due parti unite insieme. Quindi si vedeva la riga. Questa cosa qui per me era... Non piaceva per niente. Quindi ho tagliato il serbatoio. L'ho unito. L'ho carteggiato. Sono andato a rincollarlo. Ciao a Damiano Messina. Benvenuto. Buonasera. E poi sono andato ovviamente a smontare, visto che il modello era praticamente pronto. Sono andato a smontare, perché qui si può ribaltare la cabina, per andare a preparare il motore. E quindi ho fatto un po' di colori sul motore. Massimo ha... Travallatoio su la boate di reservoir. Ti abbraccio, Damiano. Si, ho salutato. Lui si abbraccia a te e a me metto. Io su quello che lavora qui non vengo neanche abbracciato. E Massimo ha eliminato l'excès di plastica che, nel primo kit di repas, l'aveva sul riservoir. L'ho trovato, dice, siete sempre così produttivi dalla Max Model. Però c'è una faccia a farbiata, eh? Sì, perché dice, da un momento io, eh non so, a te non so cosa vuol dire, tutte le sue pitture, questo mi snerva. Aveva scritto anche qualcosa a Stefano, vedete? Sì, aveva chiesto a Pascal se si ricordava che aveva prodotto il kit del T. Ah, ecco, ok, ok. Allora, quindi esiste un kit? Esiste. Bene, bene. Eh, bene a sapersi. Esiste? Eh, boh, eh, gli ha chiesto, ha chiesto a Badrack, ha chiesto a Pascal, chi è che produceva il kit... Se si ricordava, sì. Ah, io l'ho visto anch'io a Giabeca l'anno scorso. È un kit in resina del muso messo davanti, praticamente, a uno Scan S. Bene, con il muso, però bisogna allungare il telario perché mi sembra sia un po' colpo il telario. Damiano abbraccia anche te allora, eh, perché sei lato. Oh, no, sì, se no ero geloso. Grazie, Damiano, grazie. Quindi, quindi praticamente sono andata leggermente a inserire qualche dettaglio in più anche su questo qui. Metterò le scinghie al serbatoio, in modo tale si noti di più. E poi, praticamente, questo lo lascio così. Mentre su questo porremo un altro, un nostro kit decal. Eh, un po', come vi dicevo l'altra volta. Quale? Eh... Come si chiama? Così. Descrivilo. Di che colore? Stai calmo. Una domanda per volta. La cabina è rossa, è una livrea laterale con una strada ed è un'edizione limitata che è uscita in Germania. Ah, ok. A me è piaciuta, perché mi piace tutto l'F2000, quindi mi piace, quindi è molto rara e penso non sia neanche uscita fuori dalla Germania. Adesso è in Turchia, perché tutti i camionbecchi tedeschi vanno in Turchia, specialmente Man, e quindi parecchi Turchi hanno questa livrea. Le Man 2000, le rouge, Massimo va le decorare con un kit dedicato a una serie limitata d'Allemagne. Ce l'hai? Sì, mi credo. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, vai. Vai, ciao. So, the M-I-N red is waiting for its decoration and the design that Massimo chooses for this one is a limited edition, a German limited edition. The design has a road on the side and is not very common, because they realize only a few trucks and now you can see on the road of Turchia, because all the trucks, German trucks, by second hand goes to Turchia, and so Massimo will show you the kit in a few minutes. Eccole. Trovate. Edizione limitata si chiama Roadstar Edition. Edizione limitata si chiama Roadstar Edition kit, this one goes on the red one. Ciao a De Bruin, thank you. Ci ringrazio per l'edile, thank you De Bruin. Grazie a te. Praticamente, ovviamente, le due strade vanno sul laterale, qua, e a differenza del modello prima che non ha le minigonne, questo modello aveva le minigonne e le altre stradine vanno sulla minigonna. Molto semplice, però era d'effetto, mi piaceva. A me piace poi il F2000, quindi le faccio tutte. Massimiliano Feltrin ci chiede se produciamo anche camion militari in 87, e no, gli ho detto di no. Fa realizziamo... Ma cosa si? Fa realizziamo i camion militari? Ah, noi, noi no, però le decal per me. Ah, le decal, si, si. Insomma, questo è il richio, se poi lo lascio qui, se dopo lo voglio rivedere. Se poi a qualcuno piace il MAN F2000, piace solo a me? Non lo so, a chi piace? A me mi alba. Oh, bene. Perché il MAN F2000 è un camion molto, per l'epoca, molto di lusso. Cioè, io ci sono montato sopra e ho avuto anche la fortuna di guidarlo, ed era un camion molto, molto, per l'epoca, all'avanguardia. Aveva gli interni in radica, i seggiolini di velluto. Insomma, era... Anche poi la strumentazione era tutta molto completa, molto, molto, molto elegante. E per l'epoca in cui si era, perché insomma ancora si era parecchioso, era anni 80, eh? Cioè, non ci sbagliamo. E poi sono stati i primi a creare un modello, non è questo, infatti dopo si farà anche quello lì, però su una colorazione blu metallizzato, 603 cavalli su un camion, perché, ovviamente, ufficiale, perché poi, vabbè, i turbostarli l'hanno fatti tanti, modificandoli. Però era il 5,70, se non sbaglio, no, 5,20, poi 5,70, 5,20, scusami, dell'Eurostar, inizialmente, poi diventava 5,70, però loro sono arrivati a 603 cavalli. Simone Pallini dice, cabina spaziosa. Esatto, cabina molto spaziosa, molto alta, molto spaziosa. Quindi si torna, perché per lo standard dell'epoca era una cosa eccezionale. Intanto, Pascal Sarazin ha risposto a Stéphane Beden dicendo trackpassion.net Ok, trackpassion.net Bene, chi può fare un musone, noi si farà l'idea, senza problemi, però, ufficiale, non c'è una colorazione. Ora gli stimolo anche un'altra domanda, ma ufficiale, non mi sembra di aver visto colorazione ufficiale. Scania T Next Generation. Massimo vuole sapere se qualcuno di voi sa se il Scania T Next Generation ha una colorazione ufficiale o non. se vuoi sapere, voi puoi rispondere dalle commentaire. Antonio dice, io li ho guidati ancora quando l'Ital Trans li aveva, non avevano mai problemi, ovviamente riferendosi ai manna. Però bisogna che tu mi mandassi qualche foto di manna F2000 di tal trans, perché potrei sbavare... Antonio, questa è una richiesta. Se li hai, ovviamente. Ma in F2000 di tal trans, spesso potrei davvero sbavare. una cosa bellissima. Insomma, una scena qua. Per voi è una scena brutta, e mezza di chilometri. Però era ancora, non dico nuovo, però si vedeva ancora che traspirava eleganza dentro. Quindi, bello, bello. Stava veramente una bella emozione. questo cambiaccio. Ne ho soltanto una di foto, che usavano come mula in fine carriera. Come muletto. Poerino, che fine carriera. Il muletto fine carriera. Va bene, mi accontenta anche di me. Si può voler tutto, però bello, bello, bello. Quindi, MAN F2000, l'ultima volta a Dortmund, ne ho comprate altri due. Quelli ovviamente vanno colorati. Poi sul tavolo vediamo anche uno Stralis, seconda generazione, già pronto, bianco, per diventare Livrea Croce Rossa. Ops, non c'è un po' il casco, vabbè. Per diventare Livrea Croce Rossa, perché ovviamente in Croce Rossa prima dei Volvo insieme a Mercedes acquistarono due Mercedes MP3 come quello. Come quello? Sì. E due di questi che ormai hanno il suo tempo, però sono comunque camion nuovi, perché in Croce Rossa sono stati forse tra i primi camion nuovi che sono stati acquistati, perché sennò di solito erano seconda generazione. e questo è uno dei prossimi progetti, questo è un white Iveco che sarà decorato con Red Cross livery, perché Red Cross ha questo tipo di truck insieme con Volvo e altri. e questo ovviamente è un modello Ritz. è un modello Ritz e se lo toglie però non lo inquadro più. E questo è pronto a essere decorato con il design dell'acqua rouge italiana. Devo ancora vedere che non ricordo bene se quello dell'acqua rouge ha le finiture nere, se no mi tocca riperniciare anche questa. Ma insomma, vediamo, ancora vediamo. Forse l'ho messo, scusate, lo prendo, forse l'ho messo io. Non lo so, se lo vuoi scartare con le dita, non lo so, forse non ti merita. No, secondo me c'erano. Antonio dice ai tempi quando li guidavo non c'erano i telefonini con la fotocamera ma i telecomandi con poca tecnologia e c'erano ancora in voga c'era ancora in voga la macchina fotografica. Quindi ha poche foto, insomma, praticamente. Non lo so, non lo so, prima io giravo con la macchina fotografica digitale perché poi la macchina fotografica normale era sempre un po' più complicata. Però partivo per andare a fare dei safari fotografici, all'epoca andavo a fotografare i vigili del fuoco quindi ho una grandissima collezione di mezzi d'epoca ormai perché collezione di foto collezione di foto collezione di foto di mezzi dei vigili del fuoco perché partivo la mia macchina fotografica con la pellicola e andavo avevo degli amici in caserma andavo lì e fotografavo tutto il loro parco macchine. Adesso sono mezzi storici perché sono mezzi tipo il C60 il 180 il C50 quindi roba veramente antica però ho tante foto perché comunque andavo a posto. Però è vero prima ora è facile fare le fotografie prima se uno ci pensa non è che si portava la macchina fotografica normale le macchine fotografica digitale hanno cambiato metodologia è vero è vero quindi questi sono un po' i progetti però secondo di me cosa che nessuno ha detto sul tavolo ci sono anche altre novità si può guardare? per me lo potevano guardare fin dall'inizio però non hanno detto nulla chi si vede non sono interessati insomma ecco voglio dire no se no avete detto perché vuoi poser qualche question sulle novità che vuoi sulle table d'altra parte no no d'altra parte l'altra volta non era più qua ma si sono sperticate le mani perché ho detto solo scania sorpresa e stavolta non è scania ma la sorpresa c'era ma non l'hanno vista ma quella cosina blu io non dico nulla se è blu verde arancione o quel che è do you have any questions about the models on the table maybe you want to ask something about I don't know this one maybe Volvo dice Antonio Falchetti te li ho richiesti gli scarichi dice Jerry e chi mi ha chiesto gli scarichi il calendario dice Antonio si bravo anche quello anche il calendario si ma il calendario ve l'ho fatto vedere Volvo hai detto bene Volvo ma ti ho richiesto ti ho richiesto gli scarichi che vorrò dire forse non li hai mandati che scarichi ah questi si si me li hai richiesti ma tanto li ho mandati non è anche l'idea quindi perché gli devo mandare quelli Jerry ci vuole pazienza tanta pazienza ma mi ha detto lui mi dice sempre fai con calma non ti preoccupare Jerry tu non gli devi dire fai con calma perché se no non te le manda le cose cioè e mi tratta male e poi vuoi sempre parlare con lui Jerry pensa se sei lontano io sono vicino se ne chiedo io mi agnelli a 100 posti perché me li faccio ma non è vero questa falsità questo è falso è falso lui vuole parlare sempre con me Jerry e poi dopo mi tratta male perché la lingua batte dove il dente duole capito e quindi e quindi la sorpresa si guarderai però la prossima volta penso non lo so se vogliamo dare l'anticipazione di questa cosa blu hanno fatto l'anticipazione blu volvo ma che volvo è perché io da qui non lo vedo mica è lontano ma non tutti sono ignoranti lo so ma facciamo conto che ci sia qualcuno che come me ne sa poco e non si vede da qui l'hanno detto mettilo qui sotto allora giravo un pochino allora vado io vado io ignorante no il futuro progetto no in verità mi ha detto che me li spediva più avanti ha detto Jerry va bene allora non se ne ha dimenticato via meno male non mi dimentico non mi dimentico di Jerry è il prossimo progetto che vedrete in live quindi è già pronto semplicemente è facilissimo da capire perché è parcheggiato sopra verso i decali quindi voglio dire è un'icona nel mondo dei camion ha fatto la storia ha fatto una poesia ha fatto una poesia insomma io ho fatto una poesia non quello non mi ha fatto se faceva complimenti a me ovviamente si va a letto a un tento stasera quindi è un questo è il prossimo progetto la Volvo performance edition non si sa non si sa lo dico io Jerry fa anche gli specchi questo dove? no ma chi l'ha detto? ma non c'hanno gli specchi lì dietro? si ma sono parcheggiati lì ah perché andranno nella scatola no ma poi questi sono gli specchi di Duff questo video che non li ho messi quelli dietri che sono ah questi guarda guarda come sta attento il nonno Massimo guarda bravo si sono gli specchi che li dipinge anche capito? poi non li mette però li dipinge infatti anche Jerry ci vedo anche gli specchi grande Jerry ma perché non li dovrei preparare? cioè il modello è pronto non ha gli specchi per una ragione che io ho spiegato perché non c'entra nelle scape gli specchi devi mettere nelle scatole bravo vedi esatto so next project will be also this Volvo the blue one that is an icon of Volvo è un'icona quel tipo di Volvo sì quel tipo di Volvo quella livrea lì ha spopolato ha spaccato speravo fosse la volta buona dice Jerry no 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 Bruno dice infatti dice anche Antonio il Volvo Performance Edition c'è sempre una prima volta dice Jerry la prima volta è stata su quel Duff lì sopra ce l'ha montato guarda Bruno Lejean dice ho scoperto che Renotti Turbo Leader sta per uscire sì è vero se è vero Bruno tutto basso con le tue Renotti Turbo Leader no aspetta allora forse ho capito male io sì Renotti Turbo Leader non lo so no non te lo so dire no questo non lo so io ho visto che Airpass ha rifatto gli stampi dell'R tetto basso mi sembra Renault R il vecchio Renault R e anche dei Duff ha fatto sì i Duff ce l'ho già no ma anche i vecchi sì sì ha fatto sì sì quelli li ho già presi ah i Duff sì 3006 Bruno Massimo ha le Renault R ma in non ho sentito niente di Renault T quindi guardate cioè questo tabolo è meraviglioso Scania Maravillous chi ha detto insomma no nel senso cosa c'è un po' di Casino c'è un po' di confusione parlo di un modellista non può essere perfettamente il tono su c'è un po' di tutto certo ci sono tutte le cose nei necessi ma cioè lo Scania in quantità alte industriale per Beden e Pascal e Pascal poi abbiamo Mann uno dei miei a me preferiti quindi ci devo mettere come il mio Univeco che specialmente lo Stralis non risulta tra i miei preferiti ma rimane nel mio cuore perché è croce rossa ovviamente certo e poi ci abbiamo messo anche un Volvo che è un Icona cioè sarebbe da rubare questo tabolo giusto? giusto io lo ruberei ma siccome il mio non c'è problema quanto sono simpatico quindi benissimo quindi riassumendo riassumendo finirò e poi il venerdì prossimo vedrete lo streamline completo su Facebook e su Instagram Bruno hanno fatto una nuova serie cerco di mandartel le foto ma che erpa? non lo so ci manda le foto quindi merci Bruno ma di che? del Renault del T Turbo Leader Gerry dice la cosa bella di un tavolo da modellista è il casino se vedete il mio vi spaventate una cosa da ora sono bravo vedremo poi le scatoline le mette queste quale scatoline? le scatoline piccine no perché se le metto nelle scatoline non li vedono invece qui li vedono e sbavano specialmente i francesi e poi sono sono in fase di test quindi questi non sono prodotti finiti io li strapazzo li vernicio qualcuno lo piglia le pinzette quando voglia lo tiro per vedere quanto dura cioè sono tutti beta test quindi non possono stare nella scatolina perché poi non li vedono e trova sempre tutto dice Gerry anche se c'è un gran casino insomma sì ora tutto tutto lui non ti ah lui sì io ogni tanto qualcosa non la trovo ma basta guardare in terra di solito quando lo trovo sei simpatia non c'è niente ho dato l'aspirapolver no assolutamente ho dato l'aspirapolver ma non sei per niente simpatia e quindi che stavo dicendo ecco ma interrotto questo succede nelle migliori famiglie dimanche il filtro sì sì è tubo discaria va qua allora si stava dicendo che domani esce la newsletter no quella cosa si dice ora domani 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 uscirà la newsletter da così sotto si va qui sotto uscirà la newsletter per gli abbonati dove noi mandiamo le novità per acquistarle in antecliva chi è scritta certo quindi da domani ci sono le novità poi da lunedì il catalogo il catalogo sul sito sul sito sul facebook ovunque ovunque voglia la pagina la pagina dei cataloghi è il rifascimento quindi può darsi ora la vedete così e la settimana prossima sia diversa forse se ci la vedo però sta cambiando quindi ci sono anche tutti i cataloghi nuovi e niente e poi che cosa abbiamo detto c'è stato il contest ve l'ho già un po' annunciato sono sempre molto contento perché è sempre molto attivo tantissimi partecipanti tantissimi commenti mi fa piacere perché vedo che non questo bisogna tutto la tua perché mi fa piacere perché siccome ci sono tanti stranieri che non hanno bisogno del mio incipit per rispettare le regole ma mi piace comunque partecipare quindi dare voti un po' a tutti questa cosa mi fa molto molto quindi il contest è terminato e Massimo è molto contento di vedere che tutti i modellisti vanno mettere le foto e votare le altre senza che Massimo va dire qualcosa e questo è molto contento perché ci sono partite le modellismo e tutte le foto e è molto contento quindi yesterday ended il contesto e Massimo è molto contento con il risultato di questo nuovo contesto perché tutti sono felici di postare le foto di loro e anche votare per le altre foto e questo rende Massimo molto felice e infatti sono molto contento quindi partecipate anche al prossimo sarà a marzo e quindi cosa cosa altro dovevamo dirgli del calendario che appunto poi dopo che vince sarà lì sopra e stasera ne regaleremo uno al cannolo Massimo perché non gli hanno ancora dato il calendario e anzi facciamo questa cosa in diretta così la documentiamo dalla parte non bianca magari si vanno a contare ma gli si è già dato se riguarda il video ci si ricorda esatto esatto e quindi detto questo mi sembra di non dimenticarmi niente sto dimenticando qualcosa che appunto andremo a Giabbè ma l'abbiamo detto durante la live le novità le abbiamo dette il pdf l'abbiamo detto cioè il catalogo l'abbiamo detto e il contest l'abbiamo detto mi sembra si è detto se poi ci siamo diventati qualcosa lo scriveremo nei commenti esatto noi ci vediamo e qui ci abbiamo un calendario così vediamo subito la prossima data ma senza occhiare oggi è il 6 dico bene? si oggi è il 6 ci vediamo il 20 giusto? il 20 il 20 il 20 il 20 stessa ora stesso canale stessa voglia di stare e Antonio Falchetti dice buonanotte a tutti grazie alla compagnia ti frega ti frega santi ma non è Antonio va ripreso 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 di questa edizione ok so Antonio è il 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 febbraio edizione di questo anno e vediamo in due settimane e ti frega Don't forget the new decals on the website and for the subscribers tomorrow for the subscribers of the newsletter. So, on se voit dans des semaines le 20 février, n'oubliez pas la newsletter de demain où vous trouverez les PDF avec toutes les nouveautés et les coupons pour et les coupons pour le bon de réduction. Salut à tous et à presto dit Bruno Lejean. Eh, mais il y a la notte ufficiale non au massac. Eh, si, si. On se voit aussi à Jabeck pour ceux qui seront là et on se voit dans des semaines. Bene. A questo punto, buonanotte a tutti et grâce aux participations. A la prochaine. 20 febbraio. Ecco, quindi 20 febbraio ciao a tutti. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Grazie a tutti. Ciao.